Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento. Siamo in via Filanda Vecchia, nel complesso Ex Abida e più precisamente ci troviamo in un bilocale al terzo ed ultimo piano servito da ascensore e con il proprio garage al piano interrato. Da questo comodo disimpegno armadiabile accediamo al bagno e alla camera matrimoniale. Come puoi vedere l'appartamento non è mai stato abitato e l'arredo è completamente nuovo. Sei stanco di pagare un affitto e vorresti sfruttare questo momento in cui i tassi dei mutui sono molto bassi? Oppure i tuoi rendimenti azionari non ti stanno fruttando quanto desideri? Allora questa è la soluzione per te. Sono certo che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!